Sì, no, vabbè, allora calcola che Battlefield è un gioco fondamentalmente arcade, cioè vabbè, ti prendi, salti, corri, a cazzo ti prendi, questo invece è molto più strategico, più giocato di squadra, più muoversi lentamente, più lento come gioco, ma è più realistico, cioè quello che lo rende poi anche un gioco realistico, capito, cioè non ci posso mettere a confronto. Da qui, non vedo un cazzo, quanti sono distante, sono vicino, e dai, e niente, non mi piazza, io non odio il bipode, lo odio, non lo piazza, non lo piazza il bipode. Ok, ragazzi, sto ancora costruendo il ponte, eh, voglio piazzare il bipode, non me l'ha messo, come sempre, vabbè. Rally, sporco, nemici su rally. Eh, lo vogliamo tutti, pega, lo vogliamo tutti. Ma da front 2, boh, vedremo. Cazzo, cioè devi piazzare il bipode, non solamente mai, fa come cazzo gli pare, fa sempre come cazzo gli pare. Rally, compromesso. Stanno qua, ragazzi, qua intorno. Non te lo piazza, ero lì a cliccare, c'è per piazzare un bipode. No, 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 va tranquillo, adesso, adesso, fallo, fallo tirato l'antitec, faccia la prossima, va tranquillo. Vabbè, vai a Matt, prendi. Vabbè, grazie, non ce lo dà. Sì, sono già preso sicuro. Eeeh, cosa sono già preso sicuro, scusatemi? Eeeh, il Panzerschreck, quello grosso. L'ho presi due, se no, questa è la mia. No, non so, andiamo a larga mano. Abbiamo tanti contatti a sud, ragazzi, cerchiamo di tenere. Adri, che facciamo noi, quindi veniamo a sud? No, non si vede, non si vede. Ma che bagliate tutto? Guardate sud, ma non lo lasciate, perché... Adesso per il bipode, non lo facciamo così, no. No, è un problema che c'erano tutti i giochi. Tirate sul link, che è il nostro amico. Madonna. Contatto, l'occhio. Sì, ce l'ho davanti, mi sto mitragliando un po'. Che ferro, non c'erano. Pinocchio, la tua destra. Preso uno. Un po' di bile solo del... Uno qua dietro al bordo davanti a me, eh. Preso. Madonna. Quanti ne sono di questi americani. Cacchio, uno davanti a me. Dietro la collinetta. C'abbiamo il dock? No, purtroppo non c'abbiamo il dock. Sele, ti saluta Thunder. Cazzarola. Ragazzi, io sto controllando il ponte. Ok, ciao, sto sull'antiere a... Grazie. Sto giù che ancora me l'hanno tirato d'altro qua. Sto controllando il ponte. Intanto mi livella. Ok. Buona, buona, va bene. Cazzo, sono in giro in un c-studio. Sul dock a stea. Ok. Sì, dietro te. Vai. C'è più di uno. Uno l'ho messo a terra. Sì, è una garrata. Minchia. Aia. L'hanno tirato noi. Tiro su. Vai. Grande. Non abbiamo anche rinunciato l'MSP, credo. Sento spavigili. Cazzo, non c'ho stamina. Ragazzi, stanno ricaricando sul ponte. Ne ho fatti fuori un paio, senti, eh. Prendo stamina. D'accordo, grazie. Ah, io sono stato l'anereo. Ah, è questo. È bene, è bene. Abbiamo grabato una buona linea, insomma, la squadra d'oro. Ma che uomo. C'è fai di respingerti. Dobbiamo ristruggire il ponte di nuovo. Matt, se riesci, dovrò afflancare e far fuori quel ponte. Ok, vicino all'MSP, MSP ragazzi. Sì. Andiamo a ripulirlo. Non posso farlo passare. Sul fianco. E' appena morto un tizio qui dove l'ho marcato, quindi occhio. MSP è saltato. Cazzo. Andiamo a riprendere l'MSP a Menni. Direzione sud-ovest, ragazzi, fanteria. Guarda che l'è che ha oggi mate, che hai visto? Tanto ragazzi, sto continuando a grondare, mio Dio! Non è possibile. Non mi hai visto, ha il mezzo di Gesù, praticamente. Poi mi stanno recuperando la live su Whatever2, non vedo l'ora che lo riporti. Settimana prossima, Tomix. Settimana prossima. Oggi abbiamo fatto il sondaggio, ho voluto fuori PS, visto che da un po' che non lo portiamo, ho detto, dai, ma sti cazzi, faccio PS. Tanto per ogni tanto per il portale, perché sono non... Purtroppo, siccome non riesco con le serate degli eventi, per robe mie, ok, per impegni miei, allora il sabato, di solito, ci si riesce a fare una partita, a buttare su un team, allora da profitto. Ehm, ma sono proprio in mezzo al Cespuglio, quello è il problema. E' quello il problema, non è così facile. Perché sono bien piazzati, perché loro hanno costituito il potesse, sicuramente, stanno difendendo questa zona qua. Sono piazzati qua, vengono da qui, come vedete, e fanno anche da qua. Ho avvicinato un po' un MSB, più di tanto non lo avvicino, perché ci sono ancora i contatti. Sì, i contatti tra le ASB e il nostro Giacomo, non è quella incrocio. Ho sentito un... eh, un radio man. Una carabina qua, e... Così forte. Uno. Sventica. Proviamo questa zona, ragazzi. C'è una carabina da qualche parte in questa zona. Qualteria là? C'è una carabina da qualche parte in Cespuglio a sud-ovest, ne sono usciti tre. Madonna, cosa sono? Tipo i leprotti che escono dai Cespugli? Probabile. Ma cos'è? Tipo qua è la caccia di fantozzi? Oddio. C'è una lanza più tiga. Sì, sarebbe una balla. Un... 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 Ci abbiamo il medico, credo il signor Pinos. Aspettiamo se ci arrivi. Guarda, è molto semplice, Matte. Allora, noi e te mette siamo la squadra in difesa. Dobbiamo difendere questo punto qua. Ok? Qua ci sono diverse altre squadre che stanno difendendo la zona. Il nostro obiettivo della nostra squadra è distruggere questo ponte che permette agli americani di poter attraversare... Prima di attraversare, praticamente, la zona, il fiume, per farci plancare. Ok, arrivo. E... Il nostro obiettivo, quello che noi stiamo cercando di fare, è spingere, difendere questa zona qua e distruggere il ponte in modo che l'unico modo che hanno gli americani per avanzare è la strada. Ok? Texto? Molto semplice. Stiamo difendendo, con fatica ma stiamo difendendo. È molto semplice. Non ci scappi di niente perché non si vedono i nemici. Per cui non si capisce niente. Ma è il bello del gioco. Cioè, è un gioco realistico, potete vedere così. Non sono marker... Triangolini sopra la testa, per dire. Ok, andiamo col buon Adry. Ok, mi hanno resciato, ti raggiungo. Sì, non sono colton qua, ne ci spugni sulla nostra. Ma che cazzo? No ragazzi, questa è bella, gli ho sparato un colpo dritto per dritto nel petto, l'ha trapassato, non gli ha fatto hitmarca. Marcalo, marcalo, gli ho spugno adri, almeno anche la uscola. Scusate, l'avete vista anche voi? L'avete vista? Sta fanno a stragi. No, alzo le mani. Alzo le mani. Questo è buggato forte. Una barraccia da stamina, sì. Cioè, boh... Ok. Cazzo in mano. Lezzo proprio? Ma lezzo proprio. Vedi di solito i tuoi compagni di squadra o i marker che mettono i capi di squadra? Cazzo l'ha ampeggiorato l'ultimo giornamento, sembra me. Non sembra me. Cazzo, una volta almeno gli hitmarca erano entrambe. Cazzo è successo, cazzo. Cazzo, bridge è completamente ruota. Usciamo al punto, ragazzi. Bridge è completamente ruota. Tanto, luce, grazie mille dell'abbonamento, gente, dice. Il punto è tra i super cicciotti. Grazie mille. Voi tutti tranne me, Matte, Matte, vieni. J'arrive. Eh, stanno via, eh... Che cazzo fa... Finisce che muoio, finisce che muoio, finisce che muoio. Bene. GG. Ok. GG, ragazzi. Matte, canta delle matte. Hai muoio, per caso, perché mi sembra strano. No, non ho muoio 60 Hz, perché? Lo sto che mi senti dominare. Ma mister, non c'avevi un'info di giovedì. C'era come l'italiana. Come? Davvero? Ma c'era come l'italiana di squad. Fai gli eventi di partita giovedì. Rai stanno subito e unisci. Sotto il link... C'è il bannerino nella descrizione. Subito. Ciao, Toto. Allora, non so, lo matto io. L'ha trapassato veramente, dai. Eh, ma ragazzi, tocca prenderci la mano. Tocca prenderci la mano. Adesso vai, a parte quella roba lì. Ho sforato un americano due volte. Un intento, un respetto. L'ha trapassato. L'ha trapassato. Perché? Però. Dai, adesso siamo alleati. Col Piat. Poi vabbè, mettete caso che io ho un po' di mesi che non gioco a PS. Tanto benvenuti tutti, ragazzi. Vedi condiviso la live? Dai ragazzi, portiamo gente, su. Dobbiamo dominare la parte di Twitch su PS, dai. Ce li siamo? Tanto Nino, grazie mille dell'hosting. Gentilissimo. Madonna, beato te. Beato te, anche io. Dove cazzo è? Ma perché il like, tanti tank, non me lo mette? Chi se l'ha preso? Nessuno. No, spona, ragazzi. No, spona, dai, almeno. Ciao ragazzi. Capi. Gianni. E Gianni, grazie mille dell'hosting, tanto. Secondo me, ragazzi, siamo sul server. 7AD. Rat. Buzzerprat. Se volete. La parte dove ci sta lancio il paratone, nel caso non soffriamo, perché non mi va di sponare in main e andare col camion. Madonna, quanto sei proprio sfaticato. Ah, è quello che ha sponato, ogni meno. No, nessuno, ok. No, uno c'è sponato. Lo vedo, lo vedo. Io lo vedo, uno verde. Sì, anche io. Chi è? Chi è il lezzino? Io no. È Luke, è Luke, vabbè, fa niente. Chi è il lezzino che si è sponato? Io non vedo aerei in arrivo, quindi sponiamo anche noi a Ciccio. Adesso però Luke ci insulta tutti, eh, che ti lasse l'abbia risultato a lui. Aerei in arrivo in realtà. Come? Le madonne, le madonne, ragazzi. E' vero, è vero, è vero. È la vita, Luke. Abbiamo ste MSK, dai. Mi incazza adesso. Che è che si sta a lanciare? Fa bene? In che senso? Che caccia hai? Vai, con sto piano, stai molto lontano da Wilhelmina Park. Cerca di arrivare in questa zona, va. Ah, lo diciamo più se le metri. Ti resta un mark dove vuoi che vada e faccio il giro il più largo possibile. Guarda che non è la fine, è una cosa che devi fare dell'RP, c'è, giochi così. Ci siamo tutti, sì. Ci sta, dai. Vai, vai, vai. Dai, che palle, vogliamo lanciarci. Un dabate. Buongiorno a lei, Luca. Buongiorno a lei. Mi piatto a me, sinceramente, non fa tanto caldo, più mi piace c'era. Oddio, cosa c'ha quella per suoi dietro? Sì, è un po' incazzato, sì, lo vedo. E poi li ha rifatti. Guarda, ci stanno collocando già l'altro MSB su 29. Qualcuno lo può esorcizzare, quell'uomo? No, raga, ma la fine ieri ci sono, sono arrivati ora. Sì, no, no, trappo tu. Oh, ok. Stavamo per fan botto. Tranquilli. Ma il suo è, adesso è scontato a 21, se non sbaglio, sui stili. Forse sui siti, magari sui standgames puoi guardare. C'ho il bannerino sotto, scrivete, cosa cosa faccio sui standgames? Anzi, anzi, anzi. E, in tù, dipende. Dipende, cioè carino sì, ma io se devo uscire per il proprio studio. Guardiamo un buon punto per approcciare te la Svizzera, l'anno. Preferisco. Anche se adesso vi sto carino, intanto non sembra male. Però, forse, magari, più per te, l'Italus, perché è più semplice. Meno impegnativo. Tanto le copri con i soldati. Accelera poco per fare poco l'umore, ragazzi. Benvenuti tutti, ragazzi. Taccate il nuovo canale, ricordatevi di lasciare un follow, quindi di iscrivervi. Al mio canale parlo tra i red del genere, mi raccomando, ragazzi. Allora, tutta la sinistra, tutta la cosa. E condividete! La metto dietro la scritta, ora, tipo, no? Salve. Ma, no, ancora più. Salve. Vedi quello dell'edificio lì alla tua sinistra? Sexy. Sì, sì, vai, vai. Sì, partimento sì. Mi sta piancando anche l'ardito. Ho cliccato, per sbaglio, F, prima. E non sto qua, F, 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 per l'uscita, questo cazzo tetra. F, per l'adri. Stupido sexy matte. Guarda la manina, la manina che cerca di uccidere con lo spello. Tacc. Pachettino tattico. Nei via. Andiamo, ma, porco cazzo. Non mi dico che sveglia la tua strada. Siamo ancora nella zona rossa, quindi prendiamo un Rifleman e prende quel M. Spiro e porta un po' più a nord. No, bene, è esponabile. Esponabile? Come è esponabile? È beccato. Vabbè, va bene così, è beccato, non vi preoccupate. Bene. Bene. Vai, vi ha della giunta un di fabb e nardri, vero? Vai, vai, facciamo screen, così almeno voglio mandare ai devs. Ai devs. Allora ragazzi, le case davanti a noi. No, devo ancora rinnovare. Ancora devo rinnovare la potente. Martedì. Infatti, martedì ragazzi, molto probabilmente la live iniziava un po' più tardi. Che c'ho le celle, la visita medica. A farlo doce tutto. Adri, ma il look è straniero? No, no, è dei nostri, solo che... E' altro cazzo, occhio. Sarai dentro le case. Attenzione nelle case. Non so se ha il microfono. Ti vedo, prova a ripulirle. Cazzo. Manco, ho fatto in tappa vedere. La pena l'ho visto nella casa, la chi va. La chi va. La chi va, ragazzi. E' piano terra, ragazzi. Due, almeno due soldati dentro la casa, davanti a voi. Grazie. Non sto cercando di arrivare. Rumori di tante riesco, sento. Arriva un nostro carro al nord, potrebbe essere lui, spero. Cinto, ria al nostro mezzo. Guarda War Daddy, Super Doc. Eh? Due Doc addirittura. Grazie. Secondo, ragazzi, primo piano sulla casa, c'è uno. Raga, mi faccio un titolo di carro perché siamo pieni, se no mi li potrei rimasto poi, quindi non so. Non faccio un carro. Non so, farlo, ragazzi. Non so, ragazzi. Non so, ragazzi. Man, to the first floor, to the house. Enemy soldier! Cazzo. Ci manca il ragion man ora, però. Qualche rifleman switchi. Noob Cobra, Gaiji. Ci sono ripresi totalmente quelle case. Sì, 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 dobbiamo organizzare un buon attacco. Torni indietro, un po' indietro. C'è chi ha di avanzare, ragazzi. Prendiamo quelle case. Purtroppo stanno attaccando tutti da questa zona, come al solito. Servirebbe che le altre squadre si disperdessero. Penso che c'è uno lì dietro. Uh, uh, sui minchia. Ciao, ciao. Buongiorno a te, Cristiano. Buongiorno a te. You are the hell. Classico. Il rally è rollo. Rally, amici sul rally. Cazzarola. Sì, lo vedo. Ah, il primo di tu si imprerebbe. Sì, è stato fatto quello. Che cazzo stirano il nostro carro? Eh, ma ti ho detto che non ti fermo, sicuro. Beh, che cazzarola. Scubini. Fucini botticcio. Sempre mi trovo quelli con l'MP40. Sopra la collinietta, dove sono morto io. Beh, sì, un'MP40. Mio Dio. Allora, io c'ho l'MP40 e trovo... Oh, top. Top, grazie. Cioè, allora, io c'ho il Botex e ho trovato quelli con il P40. Io c'ho i fucini d'assalto. Eh? E c'hanno i carri. Mi metto col carro e c'ha... Madre che mi butta giù il bombardamento. Mi vendo. È impressionante della sfiga che ho attosso. Oh, grazie, top. C'è un'altra. C'è un'altra. Guarda che ormai c'ho perso la mano. Devo ricciocarci, cazzarola. Devo ricciocarci. Io quando abbandoni il gioco è un calcino. Mando top per il nostro partner che ha fatto il panda. Dai, dai, prendiamo queste case, ragazzi. A parte se lo già sarei preso. Io! Passiamo a sud. Cercheremo passare a sud. Venite con me. Assurdo. Dietro al carro. Dietro al carro. State coperti. Dietro al counter. Distrutto. Cerchere la Dugia di Nissa, ragazzi. Tra me e voi c'è anche da dentro queste case. Sì, sì. Cerchiamo di provarci, però. Se quelle case vengono conquistate, perdiamo praticamente tutti. Vado, eh? È un casino passare. Ma ci riesco a provarci. Andiamo, andiamo. Venite qua. Cerchiamo di stare coperti. State coperti. State coperti. I muretti non sono per te. Lo sai, sì, che volano granate. Vai, hanno smoccato. Coraggio, andiamo. Hanno smoccato il tuo hotel, quindi non ci vedono. Via, 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 via. Accompiamoci qua. Cerchiamo di tenere questa zona. Minchia. Prego in testa. Appena salivo, ragazzi. Occhio nelle case. Hai capito? Stavo vedendo ancora la tua maschina. Qualcana? Che fanno? Non è possibile. Bisogna rinnovare il rally, eh? 20 secondi. Ma calvo, sulla resta arriva, eh? Eh, non possiamo. Il radio ma non c'è. Ma me lo prendi te, redder? Sì. Ok. Ah, se io, ragazzo, no. Vabbè, ma niente, ma niente. No, ma non è vero che ci sono lì. Refresh al rally, refresh al rally. Refresh al rally, refresh al rally. Refresh al rally. 3, 2, 1, 3. Grande. Bravo. Madonna, all'ultimo secondo proprio. Gocciolino di sudore. Da davanti, da davanti. Sì. Ma dove si dice? Sì, sì. Adesso sì. Perfetto. Era un... Quanto benvenuti ragazzi, condividete la live, eh? Quanto c'è fatto 100% una volta che è capace di essere live, è sicuramente un salto. Minchia che bocca. Non è attaccato bene ragazzi, sentiamo me, andiamo subito a... 20 osports. Come cazzo si dice? Ciao Phil. Eh ragazzi, a parte qualche bug che è rivenuto fuori, merda il gioco, lo sapete ormai. Ci ho fatto un sacco di stream, un sacco di video, sapete che merda. Con i tanti i bug vengono fuori, cioè basta... C'è dunque da fare ragazzi. C'è dunque di parte, qui da te. C'è dunque di punti. Chiasi, il fronte è fatto meglio. Il fronte è fatto meglio, dai, a livello di bug. Panteria ragazzi. Direzione 80. Vesta. Est. C'è di cadaveri, c'è qualcuno ancora vivo. Sì. Etcola, una small canadiata. Venite con me Muoviamoci verso Ventsberg E questi li prendiamo Da dietro Se riusciamo Quando puoi fare anche Di fronte a me In ordine Sì 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 Siamo qua per l'ora Poi lo muovo No Devo aspettare troppo tempo 29 secondi Minchia che ho preso Uuuu Madonna No no Beh va bene Passate per la strada Stanno probabilmente In queste case Al vostro sud Sul marker rally Più o meno Anche la posso notare Fucilatemi nella schiena Che mi è arrivata Provocorarvi Non lo so Tutta la troia Massimo Avesse l'MSP Vero che su via Il Mila Park In una posizione più consona Magari A est Del prossimo cap Da dietro Da dietro È quello che sta A nord Sì Quello che sta a nord Sì Eh vabbè Ha fatto la scorpacciata Quello di Zeb Ma guarda In teoria Da quello che so No Io per sicurezza Lo levo Sempre In teoria Non dovrebbe avere Qualche effetto Però Io non la livo a prescindere Perché non devo entrare In una casa La livo cerca Questa è la zona No è molto fatto bene Prega Sono a destra tua Lo so io Minchia ci ho perso la mano Ci ho perso la mano Non vedo più un cazzo Ok Ok recuperiamo Andiamo dai nostri Non refreshare Guardate Ok Eh vedi te Mi sto Ciao Ah salvatelo Scusa Infatti non capivo Io sono morto Non può essere rianimato Se no È spawnato Eh sì 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 Aspettatemi lì Tiro su NIS Nemico fatto Quanto ci voglio russi Su PS Sulla casa non vedo un cazzo Non c'era bene Sono già avanti Ci chiamo Adri Mettiamo il squad leader Eccolo qua Andiamo Va avvicinati Nino Nino Mamma non è da qui Niente Niente Loll Mi è scliccato Madonna Senti il colpo vicino cazzo C'è un polpo Hai buon red Come compra Non passiamo da dove ci siamo passati prima Venite No Non ancora Però potrebbe esserci su PS Vi dico questo Potrebbero Non è detta ma Se stanno già facendo una mod sui russi Immagino che I prossimi sono gli italiani Mancano solo quelli A meno che fanno i giapponesi Ma dubito fortemente Mi facciano prima i giapponesi Quindi Gli rimangono gli italiani da fare Sto guardando con il binocolo Ragazzi Non vedo un ultimo incontri da noi Si può uscire Quindi non so se Mi spaventano da est Ma perché ne abbiamo tantissimi Che sono rimasti sull'antchi tedeschi A nord-est di hotel Switzerland Est Direzione 800 Mi spaventano Mi spaventano due gol Venite con me Venite ragazzi Non ci spaventano Venite Uuuuh C'è l'M5 Fatto 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 Mio dio Ah madre è pelato Sfigato Camperino Ma come è giocatore di batter Sì sicuro E' arrestabile Minchia Ora io devo scappare Che non invengo Una partita Cazzo mai Mi guarderà l'aio di mafia Ciao Tu mi devi i cannoli Silenzio Tu me li devi dare Basta Che sfiga Carone mica è stato distrutto Ci sono Ci sono Ci sono 4 contatti Anzi Quattro contatti Anzi M1121 Ok 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 mancato Ragazzi rimaniamo in corazzone Siete voi Io vi raggiungo Se vi è Se il gioco Me lo permette Ah mi sa che ci ha fatto Per lì Mi sa che ci ha fatto No no Vieni Vieni Dovai Stanno con la squadra Tutti quanti insieme Per morta è capodale Occhio red Ed è passato Un rancianazzo da te In parte Eh cazzo Ho visto Non l'ho visto C'era anche un antigenco Preso Un altro Sotto al ponte Cazzo Tratta gente Tratta gente E in testa Ma preso Vabbè Basta Non è aggiornata 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 Minchia Hanno tutti gli anti-carro sotto il ponte Carro ancora vivo Sì Va là Va là Al massimo Adri comunica Lì alla squadra carristica C'è diverse persone anti-tank sotto il ponte Sì sì L'ho detto Ma è avanzata Cioè Prima è andata È andata via Il carro No la volta che le faci da l'ister È carina come lì È carina È da fare meglio un po' L'intelligenza artificiale Ma è carina Al comitato Ti piace Cioè Vabbè Quanti siete spawnati Vabbè No Ormai siete spawnati quasi tutti Niente Spawnate Andate a sud Andate a sud Ragazzi Sud Ok Ci raggruppiamo tutti quanti Tutti 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 Al Marca del rally Laggiù Non raffresciare il rally A Guardandi Secondo me se mettessero le navi Sì Non le metteranno Perché È impensabile che mettono delle navi Cioè Figurati non hanno Allora Che poi aspettano Perché Qui c'è da discorrerci Qui c'è da discorrerci Perché Da quello che so C'è un team Di modder Che ha Lavorato A una mod DPS Sullo sbarco In Normandia Dove le navi Da sbarco Se non sbaglio Erano guidabili Quindi magari Il team DPS La Pericore Magari Non fa Della ma Potrebbe uscire Delle mod Ma secondo me Per funzionare Ci servirebbe L'equipaggio Secondo me Cioè Uno guida Magari C'è quello che Usa i cannoni E usa l'antiaerea Anche se l'antiaerea Non avrebbe essere Dato gli aerei Fondamentalmente Sono più Ritabili Però Secondo me Sarebbe Comunque Un equipaggio Servirebbe Non da soli Ma in Comuncare Fondamentalmente È vero È vero Come sempre Ragazzi Vi ricordo Di rinnovare O fare una volta L'abbonamento Per usare Per i tanti Bancani Su un canale Con Amazon Prime E siete nuovi Iscrivetevi Questa nulla Vai andiamo E condividetelo Sotto ragazzi Di informazioni Del mio canale Oltre a mia pagina Di Instagram Ragazzi Seguitevi Mi raccomando E c'è anche Un gruppo Telegram Che dovrò mettere Il link a fine live Ragazzi Avete pazienza Del canale Trovate anche Il mio servire disco Personale Il servire disco Della community italiana Di Postscriptum E Squad Quindi se avete il gioco E volete qualcuno Con cui giocare Cliccate sul bannerino E vi parte Il link di vita Di loro discord Fan eventi Tutta la settimana Di entrambi i giochi Con cui Per la gente Con cui vedete oggi Di cui stiamo giocando Soprattutto Adri Capo supremo Della parte di Postscriptum Stuca Ha sganciato Una cosa che mi dà fastidio Che non si possano Piliotare gli aerei Sul Postscriptum Quanto sarebbe stato frigo Quanto sarebbe stato frigo Uh che bel giardino Molto curato Ok c'è stato un piccolo disagio Dov'è Selle Quando sarebbe Di nuovo Ma non ci credo Ah ok Signalano anche il deck Qui vicino Guardate il mark Mg Posso Nordest Preso Spazio Sì Tramporre Tutanto lo devono testare Per forza Quindi tranquilla A breve apriranno E ci metteranno Ok ho visto la direzione Del cecchino Direzione 150-140 Circa Della collinetta Visto per tirare il colpo Capi Ok grazie Sate l'uomo per dire Raga Esatto E' pieno di gente lì ragazzi Oh sul tetto Sul tetto ragazzi Sul tetto di questa casa qua Prendetelo C'è uno sul tetto Sì Sul tetto di quel Piccolo edificio Quella piccola farm Per chi è morto Faccio il rally Così almeno Responda Cerco una buona posizione Il mitraglio Car alleato vero Immagino di sì Minchiaviso il colpo del cecchino Passarmi vicino Bastardo Bastardo Eh vabbè Non lo vedo Non lo vedersi Spostando Non mi vedeva Lo vedevo io Invece di incontrare Lui mi vedeva Io Venite con me ragazzi Inutile rimanere qua Eh sto sempre a beva Cazzo c'è un caldo ragazzi Lo devo idratare Lo idratare C'è il cecchino ragazzi Ci sta continuando A tenere sotto occhi In continuazione Non perdo un secondo Io gli tiro una cannonata O tocca fargli un plus Sporso qua c'è la zona Da conquistare Eh no E' per controllo alta Questa zona Non mi piace attaccare qua Non mi piace per niente Hanno anche postazioni Di MG fissa Su Kerk Che guardano verso nord Sì Pian piano che morite Fissi Cioè che morite Proprio del tutto Cercare di muovervi Cioè scuonate al rally Mi rimuovete più o meno In questa Facciamo un giro Molto più ampio Stare anche a sputare All'MSP Andiamo Cazzo LG Ma lì non è rischioso Considerando che Skull è un loro punto di spawn Al momento Non penso che ci sto unito Guardate qua davanti Io spero di no Ma l'unica cosa Che mi viene in mente Da fare È girare molto Lungo Eh ma quelli che mi hanno ammazzato prima Erano proprio lì Verso dove stavano andandolo Secondo me Bisognerebbe prendere uno dei due MSP E portarlo Tipo dove è il tank ora Sud estremo di Kerk A parte zona rossa Quella è zona rossa Non puoi metterlo Ah ma guarda In questo gioco Lo score Più il meno Pia ti Non lo stiamo a guardare Ciao KON Ciao a ti Lo score non lo stiamo a guardare Qui non potete Lo score non è basso E la community Non è neanche quella Cancerogena di battiti Qui lo scorrono contro un cazzo Qui si gioca per vincere Puoi morire anche 500 volte Va Vincere la vista Bene Come man Grazie Here Ok andiamo Cadet Vabbè la squadra Carri è bravissima Fanno solo loro Un fossato Qualche cosa Mi è arrivato il pulpo Mi sa Sto carrizza tedesco Mi sa Turelli qua ragazzi Ragazzi Fanteria tedesca Direzione 260 Circa Vicino al muretto Passato una adesso Potrebbe essere anche un anti tank Ok perfetto Passato adesso Lì davanti C'è anche un cecchino con la casa Casa Ovest 280 È morta tutta la squadra Compagna qua C'è 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 L'orelli La squadra compagna Che cazzo lingua ho parlato Su Attac Mark Oh Mist Il pulpo che mi ha fatto prendere Puttata mia Sei pazzo Sì Tutti sexy matte Sì 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 C'è una squadra di Fanteria è in direzione 100 Fatto prendere io E io Matho Rally ragazzi Rally compromesso Cazzo Cazzo Com'è 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 Sì Com'è Com'è Eh vabbè Ma ho preso Manco sapevo da dove Ok Rimangono in marco Ok Raggiungimi con quella MSP Tu che sei sponato Tu che sei sponato Siamo sulla MSP e facciamo un giro lunghissimo Yeee Evviva Vacanzina Questa sarà la reazione Spero che non sia fuori mappa Ma non credo Ma quella è la macchina del comandante Nemico Quale 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 è la dietro Siamo tutti Stai guidando Stai guidando quel piede Ora si Ho un coppo Ho Vai Cerca di tenerti sulla sinistra qua Che se ci vedono da carca ci Da cintorano Si Evito di scavalcare la pelinetta Era sfingosa In che senso? Vuole Giornarmi Ma Lasciamo in pace Perché Siamo in pace Lasciamo in pace Strucca Strucca Di sicuro non è per noi A sto punto Eccoci Mi sono castrati Vabbè anche se era per noi Eravamo incastrati nel palo Quindi era gg Parco Sei un bufo Un ucciano del malapure Proprio Mi porto a sfiga Ok, tenete al sinistra questa strada E sperate che non incontri il carro Niente Dovresti far giri Ah, a sto giro se arriva il carro Gli tiro una mina Mi sa Ok tutto a destra Morto il cazzo Capitano tutti i caristi nostri Un ufo dell'uccello Attraversa questa strada ora Vai, vai, vai ora Ok facciamo un bel flakkin Se riusciamo Sto parlando di non incontrare il cavo del nido Porta questo vicino al commander Non troppo Ma quella deve essere la zona Ok Ok Bellino Luca Ok Un polvo del baracurio Un polvo del baracurio Non vedo carri Grazie Dio Cioè grazie Dio siamo in anti-tank Ma sai Morire tutti i tuoi su un camioncino Sinceramente C'ho una paura di trovare le mine che qui sta quasi dentro la mappa Ok Viene torna indietro Tutti giù tutti giuro ragazzi Questa esplode Tutti giù Non ci sono, non ci sono, non ci sono qui Tranquilli Via Via Fidatemi Se non hanno fixato il problema quello esplode lo stesso Incrociamo le dita ma potrebbe esplodere lo stesso No, no, non è esplodere ragazzi No, no, non è esplodere ragazzi No, no, non è esplodere Prendi e metti io Vabbè Vabbè Però ce l'ha successo Luca io non voglio perdere tutti Le ho chiamate io le mine eh Sì, assolutamente Ditto da un secondo dopo Io mi fido No, no, andiamo a piedi Io sto pelo largo Io sto pelo largo E io mi ricordo brutte situazioni Una volta siamo attraversati Abbiamo attraversato tutto il fiume di Triviel Abbiamo fatto un culo pazzesco Prendiamo le mine Rientriamo tutti tranquilli Scoppiamo Saltiamo in aria dai No Ok, Gerc è presa quindi Non mi fa morire Adri No, non c'è l'orlo Salite sulle MSB dai Si imbosca in qualche casa a sud di Skull Occhio sull'altro colpi a sinistra Adria Vanno a piazzare lì C'è una paura di salirci Adri No, Gordetti, no Chiedo scusa Mi fregna a tamburo Ma... ma dai Oh, è il nostro Sherman, vai Beh, andiamo a prendere Maddi E poi andiamo dove sono marcato Meno male che hanno fizzato quella cosa ragazzi Perché veramente Se no eravamo perso un MSB Eeeeeeeh Salvatemi Sì Ok, ci sono Ma sei al sicuro di quello che facciamo? Oddio 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 Ti, dal E lo Aaaaaah Oh L'ho visto una maniera, Pino Sinstra, Sinistra Povero Pino No, va HAHA Ma anche qui va bene, vai, ferma qua, sotto l'albero, vai, siamo all'ombra. Sì! Ah, metti parasole, così dopo non si scalda troppo l'onnacchiera. Forza, andiamo. Cioè, io l'ho visto... No, aspetta, mezzo nemito! Ah, no, ok, com'è andato? Perché è morto? Cioè, io, ragazzi, ho visto Pino morire, l'ho visto scendere e correre, gli è arrivato un colpo, è stato bruttissimo. A me mi hanno cecchinato proprio. Ecco di chi restiamo. Mannaggia a me dei misclick, eccomi. Passiamo per il Fossetta, andiamo verso school, non ci vedono. Adri, stai correndo senza muovere le gambe. Bellissimo vero! Flutua! Ma è magico! Insegnami come fare. I brutti effetti delle mine su Adri. Stai facendo salvere con una gamba che voi non potete vedere. Sì! Eee, eccolo, sempre arrivar lì a pensare. Perché abbiamo fatto glitchato quando sarò grande. Ma come siamo bellini tutti insieme che corriamo. Tranne Adri che si muove. Adesso faccio il lato. Oh! Ok, è sceso. Stai stancato. Oh, Mago Berlino! Comunque io l'ho fatto più. Un po' più di lì. Si stanno tipo rumore della cobbetta. Dai, voglio raggiungere quel edificio davanti a noi. No, state coperti, state coperti Da qua la scuola ci vedono Prima di arrivare in quella casa, lo sapete Tenete questi a casa Contatti Io sto qui dietro il muro di piangere Non ci vengono avanti Cercare di raggiungere quella casa Occhio, contatti anche davanti Sì, è stato un camion Cercare di entrare dentro la casa senza farvi beccare Così poi cercherò di tenere questa zona Prima di attaccare Ah, siamo un capo tra l'altro Entrate Adretti, ti spiace se adesso fuori Mi metto qui che è più alto Con il cecchino Vai, vai, assolutamente Contatti nord, nord-est Stiamo tutti quelli che vedete Teniamo questa casa, qualcuno copra l'entrata Entro con la Brenna neno sopra Faccio soppressione L'ingresso di sinistra lo copro Bello, bel colpo Tenete tutti giù ragazzi Bello Così ragazzi, così Contatti dentro l'edificio a nord 20 Coprite l'entrata ragazzi Coprite l'entrata e tutte le direzioni Occhio avanti c'era uno Posso prezzare il rally qua dentro Sono morti Ho visto uno Preso Bravissimo Vittono i reni Vai, vai, teniamo Teniamo questa casa Ci tirano C'è qualcuno qui dentro mi sa Via, sono saltato io e il rally Mannaggia Attenzione le gre... Non si riesco Spero non abbia spie Ritorno subito Tenete quella casa ragazzi Tenetela Ma c'è uno Ho fatto Ma avevo fizzato Ma avevo fizzato Ma avevo fizzato Non è possibile Quella è solamente la fizzata Sul mio edificio ce n'è uno dentro Caposquadra più in turno Occhio red Ahia Ho arrivato uno dalle st版se Ma quell'on cos'è? non è impizzato! in teoria si si possono mettere qui che palle cioè stasera niente spari tra passo e colpo dai le baionettate e non li prende non riesco a capire oggi, oh buon salve non riesco a capire che problemi c'ho oggi questo è dio, allora io metterò la baionettate no? c'è io se faccio questo testo comunque te l'ho tenuto bene, penso che a scurla adesso riescano ad entrare la sella 3 cerchiamo di riprenderci con l'edificio che avevamo catturato e il rally stavolta lo metto più distante perchè mi hanno tirato una gravata dentro e sono saltato in aria anche perchè l'edificio per quando ci ritorniamo è manno te riesca sicuro vabbè sicuramente state più sparsi occhio qualcuno con il binocolo dia un'occhiata ogni tanto ci fermiamo tipo ai cespugli e diamo un'occhiata ok si vedo un mg mi sembra là sopra al secondo piano sappiamo il fly perchè lo prenda non riesce a intercettarlo sapetevi sentire lì basta chiedere GTO intanto grazie mille del follo gentissimo medico avvicinati NIS allora ne ho fatto uno sulla posizione per darvi un'idea di dove sono allineati di già sono molto più a sud di prima ok pinos tu rimani a coprire il nostro rally o quantomeno rimani in zona noi proviamo ad avanzare sfruttateci aspetti per avvicinarvi al punto di prima dobbiamo attaccare l'obiettivo coprici l'avanzata ho piazzato la brand mi copro spizza il nostro stanno esplodendo cose nel tempo ok cerchiamo un buon red salto ragazzi benvenuti tutti in lab benvenuti tutti un calo di frame lo senti? si arriva qui vedrai si arriva a noi eccolo qui oltre questa guglietta qua è distante rispetta cioè io non ci credo dai 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 sii bene si cazzo cioè la sfiga vuole no? allora io dico spari un colpo pecca sto albero di merda cioè di col... perchè? perchè? ti credo mi sta tenendo un ragazzo qua su discord che vorrebbe entrare vai dire che è libero perchè? oh c'hanno un mortaio qua eh nooo bella sti bassari stavo costruendo un mortaio bravissimo niss che l'ha riprita e mi sa che c'è anche un altro che sta andando perchè pensavo che il microfono ancora adesso è problema per caso sei il rifleman? sono morto si oh si grazie si grazie gentilissimo bella cazzettina ciao tata mi dici se riesci a... ma non prego è qui eh prego arrivo prego non rischiare se vedi che non riesci perché c'è... ma qui arrivo non so se venire da voi o... cercare... vai mi è arrivato il colpo che non l'ho visto ah mi ha fregato da questa tool no un pochettino qui indietro ma tanto gli ho fermato il guidatore fragate dentro quella casa ragazzi mi c'è vicino Luke refresh al rally radio occhio matteo non ci credo non ci credo una pugnalata così proprio a tradire davvero? ma dai sì sì perché you dead se ti fa da me è arrivato un colpo invece adesso oh l'ho fatto che mi si è stavolta mi si è stavolta e ha detto no 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 sì sì c'è qualcuno qua che ha ucciso nip buttate il fumaggio in qua nip c'è un cerchino qua che... un secondino prima mi abbassavo un secondino prima mi abbassavo un secondino prima bastava tanto benvenuti tutti ragazzi in live benvenuti un secondo bastava uno questo è cattiveria eh il canallo mi sa che è una per campagna non è nei palazzi dai ragazzi su Twitch siamo alla stream con più gente dai ragà su PS dominiamo noi italiani condividete che era comando ragazzi condividete per portare un'altra gente dobbiamo dobbiamo devastare completamente dobbiamo essere solo noi supporti dai ragazzi andate alla strada c'è qualcosa però non collabora mi fa spawnare proprio oltre lì dove c'è allora mezzo nemico camion a 3.20 non so c'è un msp spawniamo lì siamo morti meglio cammini spalla l'aspiranza l'aspiranza voglio sapere dove si è messo sto qua non so mister sai non saprei non penso c'entri si c'è l'msp nemico qua davanti a me no quella dopo me la rimetto su Instagram ragazzi se l'hai fatta bene è bellissima ok ah ciao The Blue tu stai su scrivere? oltre la strada? che bello ogni tanto si vede non vi vedo mai scrivere bellissimo come ieri che era cos'è che era? testa nel water occhio nel water che ho mai scritto? bellissimo ogni tanto da gusto non vi dovete vergognare a scrivere eh ragazzi vai proprio qui ci sono dietro devo prendere stamina santo la logistica che tira quei mortai davanti a me qua ridua cazzo questo qua è un cecchino ho preso la città 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 la città ok vai attenzione ragazzi che ho attraversato che tirano dalla zona est e infatti l'ho preso c'ha una mira infallibile raggiungetemi raga facciamo un rally qua c'è c'è una mira infallibile che dobbiamo fare il flanchino circondarli e c'è dentro c'hanno un paio di pisa c'hanno di tiratore non so se c'è una fab intorno ma non mi sembra ma c'era la logistica prima con Matte l'abbiamo fatto fuori potete dire al nostro comando di tirano artiglieria su Skull? credo grazie ok andate avanti andate avanti va avanti va avanti e andati fermare tanto prendo stamina e qui prendo anche io c'è tutti i panicati in quelle case grazie andiamo 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 se buttano artiglieri scappano un secondo poi guarda ragazzi quando vedete che non metto la musica è perché devo ricaricare su youtube la live se no mi fanno più sono più copi dai ok come ho fatto? 14 secondi alla scuola scusami mi è arrivato un colpo di anti-carlo ma ho esploso ottimo ottimo via adesso siamo a via Sì, sento dei colpi arrivare Matte intanto grazie a me del follow gentilissimo La live intorno alle 16 Poi la prossima ragazzi è domani mattina Oh cazzo Minecraft confirme Domani ragazzi facciamo la live Domani mattina ai 13 quarti circa Io facciamo il sinistro, pensavo che dovevamo costruire Scusate Cazzo so pensavo che era la nostra Ok sto facendo il destra tranquilli Grazie mille Buona giornata Non so se ne è il battente La nostra Mi ero confuso pensava che era nostra Io anche adesso Cazzo Faccio che ce l'ho in mira Un amico rumo Dai dai Proviamo a entrare in school ragazzi Occhio ragazzi verso school Lo stuca No è alla sotto di noi La finita la trilleria laggiù Oh appena finita la trilleria Direzione ragazzi direzione Muoviamoci Muoviamoci ragazzi Abbiamo farfly che si è distrutto Vabbè niente Niente Stato bello Preso bastardo Mentre si ritirava Morto si Ti strisciava via Forza Andiamo andiamo Verso il cap Copy Occhio che c'erano contatti Tra noi e il cap Non fatti i due qui Tirate su tutti quelli che trovate a terra Guarda Nelle prime mappe Praticamente le Soprattutto quelli Allora Le immobili È iniziata a mettere Dal capitolo 2 Se non sbaglio Quindi è una parte francese E il capitolo 3 Che è quello poi Della Normandia Questo qua Fa parte del primo capitolo Che dovranno mettere Che dovranno rimettere Quella è giornata La prima mappe Che ha messo Quindi ancora Non l'hanno aggiornata Voglio che metti Il nemico No Il terreno è nostro E' libero Chi l'ha Scontatti lì marcati Le nostre Guardiamo sì Verso il sum Tanto scuolo ormai è nostra Abbiamo un sacco di fanteria STG da me Sum di via Da me Sum Non so Mi scambiamo Il più 40 Dalla quaglia Ciò Ha compenetrato ok lantisti sono parecchi qui all'incrocio scuola è preso sicuramente ci muoviamo in su abbiamo un bel punto d'appoggio ma abbiamo tutta la squadra tutta la squadra nemica contro speriamo che la squadra non ci faccia bene ok no devo bendarmi via via veloce veloce perchè vuoi dissanguato stanno smoccando stanno smoccando sulla nostra eh è morto ok ok li ha fatti penso si il nostro va là no non saprei che ci possono avere ah abbiamo vinto ragazzi stop 4 digg 4 digg bella gg 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 c'è 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 e great no no ha fatto detto è semplicemente un discorso di che devono rinnovare le prime mappe che hanno come dire che hanno buttato fuori solo quello tutto qui poi dopo quando le ci rilavorano dopo vedrà che metteranno i mobili anche qui perché comunque non è semplice se mettere i mobili in tre le case a livello di server, di gioco, di framerate ha un peso quindi deve essere tutta una cosa studiata al puntino aspetta come fare il team va bene però che bravi sia TAD che fanno da squad leader perché l'avevo chiuso sono strutti squadra dog, war daddy perché war daddy ha fatto la squadra? mi sacrifico andiamo a prendere il pazzo ci fai un sacrifico perché Adry non ne si è collegato? ah non si è collegato Adry ma Tex ma che parevi te fai nel lanciarazzi? com'è? ok spawniamo non ho capito scusami non ho capito no te cosa hai detto? non ho sentito proprio scusami se volevi tu per caso il lanciarazzi? guarda se me lo lasci va bene se no non importa usalo te se hai luogo di giocare non è un problema più che altro Adry è crashato ragazzi ma non c'è l'italiano qua dentro prova a chiedere vedi quelli che non ti rispondono si Adry è crashato ma che bello il forno che l'ha rifatto sta arrivando un logistico voglio passare la tappata del boot e si sono appena accontati Adry facciamela squadra a carri io e te così la butto e Adry? guarda passando il boot e non riesco a fermarli e c'è una sca... ok il mono dentro sono andati sono sposti sulla via io devo scrivere ah va bene ok scusami butta sulla squadra tanto in teoria c'è il posto se non sbaglio anche se è un leggero chissene che tira giuro io ne stavo parlando io ne stavo parlando io ne stavo parlando nessuno è là pronto? si no join eccoci adesso respuno qual era il comando per responare? trovato posto sono morto tranquillo tranquillo dai fammo un po' de carga così cambiamo un po' allora loadout sono sponato ma sga ci ha lasciato qualcosa sti stronzetti si un cazzo vabbè un puma un sdkf una merda e loro prendono i più fighi salvare il nostro poi mi facciamo le cose più fighe sti stronzi ok 10 secondi respuno vabbè comunque il puma non è male ok ok il cannone ce l'ha il cannoncino uno ok allora sono presi l'ivi armor sti stu monzi c'è idee andiamo di puma no quella la mi sembra veramente una scatoletta di turno guido io vai ok che paio che cazzo in mezzo è quella ancora non ho capito magari poter prenderti magari ok ci sono ora dove dobbiamo andare non di là non di là innanzitutto innanzitutto non di là poi vediamo mi ricordo ragazzi se avete siete interessati all'acquisto del gioco o già ce l'avete ho scritto www.ospo.squad nell'informazione del mio canale trovate il bannerino che ho scritto join squad della comunità italiana che se avete bisogno di trovare italiani con cui giocare siete un clan comunque e volete giocare in un serano italiano comunque o qualcuno che vi insegna a giocare magari da poco che avete il gioco vi basterà semplicemente cliccarci vi parte l'invito a un serano in discord e unitevi gente bravissima ragazzi gente bravissima tra l'altro è in sconto adesso lo ha scritto ma è anche squad mi sembra esatto sì sì con i saldi estivi sia squad che fa scritto certo potevamo fare uno sconto su steve un pochettino più un po' maggiore cioè da 28 a 21 potevamo metterlo anche a 15 se voglio però comunque non sono questi cazzi sì sì in effetti se siamo lontani faccio vedere dal posto la commander guarda che fierco è il comandante dei carri è fierissimo si mette qua sopra al binocolo è bellissimo e poi per il terreno è finissimo bella domanda ora ci andiamo tutta la parte sinistra larga a sto punto probabilmente dove c'è anche scamp si prende tutto a sinistra dove c'è probabilmente l'uminio della squadra 6 capito capito si si prosegue la strada e facciamo un bel giro largo tanto per lo più siamo un carro da ricognizione non c'è chi non metterla fuori probabilmente può capitarci capita anche questo ok colpi AP APCR un'altra parte da caia ok ok più e mezzini ok 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 Adria, io ti tocco e tu non puoi fuggire da questo carro, lo sai, sì. Eh, sì, vedo, c'è avuto un bel cannone. Mmm, madre mia. Cosa mi dici mai a quest'ora, nel primo pomeriggio? Oh no, sei unito Stuart. Adria. Stuart. Sì, lo Stuart. Proprio il carro. Ah, ok, sì, capisco. Puoi insultarmi, te lo concedo. Ma qui c'è avuto, sì. Ok, a mefantaria, a nord del più giù a est. Ok. A nord, ok. Non me la sento di cambiare in HE, ancora. Lasciamo gli APC, in particolare un mezzo lo troviamo. Noi la squadra carry, ok, è pieno arrivata la badge west. Allora, ci sono i BF. Oh, vabbè, per finire, non ci stanno. Più o meno la zona. Più o meno sì, sì, sì. Allora, mi sembra di aver visto un polpo di proiettile in direzione 320. Ti riesci a guardare come comandante in versione 320? Circa? Ora controllo. Per caso vedi qualcosa. C'è stata un'esplosione adesso, direzione 20 invece. No, non vedo nulla. Ok. Proviamo ad avvicinarci un pochettino. Dobbiamo avere un po' più di visuale. Perché se no... Ok. 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 ferma, ferma, ferma si contatti qua davanti all'albero direzione nord carico HE cazzo quante lente la torretta del fumo, mio dio ok, spostiamoci da qui perchè se c'è un anticarro ci fanno subito ricarico oddio 0-1 farmi caricare gli HE uno preso non faccio niente poco amico quindi immagina che non ci siano problemi forse un nemico ehi, vedi qualcosa no no, c'era solo dell'affanteria a direzione 320 ma Angu non mi fai così perchè se scendo ti tocco e dopo sai cosa succede contatti, contatti nel... nel cespuglio muore quale? è imploso praticamente praticamente imploso gli ho fatto un headshot col cannone, guarda, allucinante questa è nostra, si? teniamo smoke avanti quello del carro nostro, vabbè, fa come gli pare si, si proprio fotte sega oddio, lo investe! no, l'ha portato via oddio è stato investito Magu oddio è stato investito Magu è stato investito però gli altri stanno ancora difendendo Bridges cioè, dopo tutto non cade no, ma, cazzo, sta facendo una difesa allucinante l'ho chiamato anche donne e bambine a difenderla i bambini con il Panzer Shrek They shall not pass adesso comunque penso che sia di nostra adesso magari facciamo avanzare un po' l'affanteria e noi vediamo ok, che dici di fare? non viene a aspettare o avanziamo con l'affanteria qua? non lo so per me si può pure avanzare tanto se loro stanno lì magari ci coprono pure solo dai non so Erzo Nord ci sarà un loro MSP magari glielo troviamo mmm, dai andiamo no, a parte no l'MSP non credo forse è una foglia è piano la vedo qualcosa ma non so se è morto se si è morto perché non si muove vedi niente Mangu? mi sai lontano lontano però i marker sono freschi sono freschi ok partiamo piano speriamo che non è su di noi stanno tirando a un cadavere vedi un po' che vedi io comunque rimango in movimento perché non mi fido si si per ora mi sembra non vedere niente ok l'albero oddio si sta sparando questo è si ma io sento spari qua raggiungiamo la strada e vediamo un po' boh pelato grazie mille del follow mi intanto è gentilissimo benvenuto tra noi contatto è davanti tre già devono avere un punto di spawn allora secondo me si stiamo abbastanza come in all'air così eccolo lally vai fallo no con gli hk tanto no? si però ha preso l'albero ma dai bene ragazzi gli alberi sono dei peggior nemici ma quello è quello che c'è rimasto le gambe sono dall'altra parte l'albero ok stiamo avanzando ok i nostri stanno avanzando anche per il punto visto piano piano eh si a questo punto tanto hanno abbiamo eliminato le forze muniche qua a nord credo no no che cazzo ha preso? ah ok l'albero ahahah sono i peggiori nemici penso che ci siano più cattivi dei cavalli non vorrei dire sono più cattivi dei cavalli per me ok allora vediamo un po' avanziamo eh poveri quelli dei brigisti madonna stanno difendendo un po' poco i denti ho speso qualcosa qui in parte eh? si eh c'è un contatto ma radiazione caro nostro qua dietro di noi non lo sapremo mai mannaggia mannaggia plant versi un zombie è vero? ma nel contatto c'è sicuro guarda il cadavere dentro al fiume eh no infatti o l'han fatto era tipo uno da solo io proprio voglio andare a vedere il ponte perchè se arriva qualche carro armato viene dal ponte dai andiamo andiamo carico gli api mi raccomando ragazzi piccolo appuntamento di domani alle 10 e tre quarti di un mattino quindi live una mattina su si optis non mancate eh? ci andiamo a divertire un po' più di 100 nuovi nel canale follow up quindi iscrivetevi al mio canale per altre live condividete e seguitemi nella pagina social sul gruppo telegram che vi metto ragazze a piene live perchè ancora si può subito allora vediamo un po' oddio cos'era questo rumore eh? è il nostro la nostra antiaerea ah ok no però ho sentito un rumore tipo del piatto mi ha sommato per un momento ci ci utilizziamo ci ci utilizziamo ci ci utilizziamo vedi un po' sotto il ponte vedo movimenti sotto al ponte copi? ah no sono nostri sono nostri anche perchè i nostri sono belli avanzati cioè c'è un punto nel mezzo che non so capisco perchè nel mezzo ci sta morendo la gente abbiamo due fronti si si proviamo a metterci più a destra magari riusciamo a vedere un po' oddio mi sono ancora da sotto? un po' oddio non c'è un punto non c'è un punto vero? no non c'è un punto vero? classico che sta a questa altezza no ancora no non l'hanno costruito ma mica perché meglio eh? avrezzano qua controlliamo la zona magari sflutto sto c'è spuglio altri dei c'è spuglio un pelo più avanti perchè sono non vedo no un pelo più avanti bon stop perfetto così a me quello che mi preoccupa è che non vedi i carri nemici e qui lui mi preoccupa un sacco per di solito quando fa così ti arrivano all'ultimo ah han preso brigiste si cazzo ok allora controlla un attimo la zona voglio vedere se c'è un posto migliore dove metterci per controllare i punti beh tranquillo ok un posto migliore in killing ok non c'è il marker sul tavolo ok no questa mappa è molto figa molto figa sta mappa dimmi se ci vedi si si no ci vedi ci vedi mappa di qua un po' meno ma ci sono punti che stanno passando li vedo ho visto uno passare sul ponte ok o sono alleati probabilmente ci sono un sacco di alleati ancora perchè si si ho proprio coperto anche di qua però comunque è ben coperto il nostro vuma quindi è a posto non non di due non di due e fu così un bombardamento con la fortuna che abbiamo io e te guarda subito lo vedono soprattutto perchè l'ho detto io ecco soprattutto no adri no ti vuoi troppo male adesso a parte che comunque rushano perchè i nostri si sono fermati a metà del ponte ci sono rimasti tre persone dall'altra parte ma moriranno presto penso io non trovo più che altro se vogliono costruire sto ponte che se vogliono farlo li fucilano si si no no ma assolutamente li tagliamo in due proprio se ci provano sai perchè non arrivano con uno sherman no se arrivo con uno sherman quelli dopo sono cazzi ma per un cazzo io lo lascio costruire io me ne vado ma che davvero intanto sherman lo possiamo fare solo ciao pinna questo qua si chiama un gioco realistico sulla seconda guerra mondiale attualmente siamo come squadra vai via con quel cazzo di carro sono saltato in aria io e quest'altro dizio mi ha fatto c'è un carro c'è un carro laggiù vai via vai via madonna me la fuggo me la fuggo chiedi c'era il tizio vicino a me che mi ha fatto c'è un carro legno a destra e io ho fatto dove siamo saltati in aria madonna guarda arrivo qua l'msp si la mia stabata, arrivo ho sentito il... e basta Con il cannone io lo salgo e andiamo. Ok. Sì, in inglese è un po' ostico. Dopo non si riesce a capire. Da molto fastidio. Dobbiamo andare a riparare, credo. Abbiamo un ripare station qua vicino. Ok. Inoltre finisco di vedere una cosa, ragazzi, abbiate pazienza. Infatti ho i cingoli, un po' messi male. Un po' messi male. La campagna non l'abbiamo fatta oggi, Penna. Ma porca, traia, non l'hanno gestita. L'hai passato. No, come no, era solo a destra. Ah, no? Ah, vabbè. Vabbè, ce ne abbiamo un'altra, ma non sono sicuro che l'hanno fatta quella. Se no, tu ce l'hai la palla. La palla, fai vedere. Aspetta che scendo. Oggi no, perché... Sì, c'ho la palla, ce l'ho, ce l'ho. Bene, vai. E no, perché oggi ho fatto ieri la votazione, sondaggio, se fare PS... Non è questa qua davanti. Ah, che cazzo so. Penso che era quella la, io. Certo. Sto a fare 240 roba in contemporanea. Morta. AC2. Ma tu costruisci, vado a aggiustarmi all'altra. Così almeno ce ne abbiamo due. Ehm... Non siamo più andati avanti perché praticamente, ragazzi... Ho fatto ieri il sondaggio di andare avanti oggi con la campagna, al pomeriggio. Perché non era la mattina. La live deve essere la mattina. Però devo fare il rinnovo della patente, quindi non sono riuscito. L'abbiamo fatto oggi pomeriggio. Siccome è da tanto, praticamente, che... Mi chiedete di portare post-scritto, solo che non riesco mai perché nelle serate in cui giocano io ho altri impegni. Stamattina ho approfittato. Allora, ieri ho detto, cosa volete? E' post-scritto o muo' Total War? Avendo post-scritto o muo' Total War? E' post-scritto. Certo, la prossima riprendeva la campagna Total War. Però la campagna non bene. Ultima volta ci hanno distrutto due giorni. Perché il gioco, madonna, è buggato con la merda. Però... E anche Capitan Filus è morto, però no. Povero Capitan Filus. Bene, bene. Questa già funziona. Poi andiamo a costruire anche l'altra, perché anche l'altra è... E' mezza... E' costruita solo a me. Ma dice, conviene costruire anche l'altra? Non lo so. Metti che uno la vede e la distrugge. C'abbiamo una del backup. Ma adesso spiegami, perché ci sono dei lucchetti nel mezzo? Sul fianco del mezzo ci sono dei lucchetti. Se ti guardi. Nel puma. Lucchetti. Non ne ho idea. Sono lucchetti degli innamorati. Li abbiamo messo io e te. E come? Cioè, i nostri lucchetti gli innamorati, che carini. Ma poi aveva paura che gli arrivano gli zinger... Gli arrivano gli zinger e li fregavano nel mezzo. Tipo la roba che c'era dentro, i cellulari, tipo così. Prontano. Invece c'è il gioco di Chaos che ti dissi non l'ho giocato perché avevo paura per il lato. Davvero, peccato. Dai, ciao Pen, ci rivecchiamo. Vai, questa l'ho già praticamente costruita. Due spalate. Dimmi tutto, Pen, dimmi tutto. Ok, poi andiamo. Sì. Ciao Man, buon dia a te. Aspetta che scendo. Non dove sta che non lo vedo? Eh? Non dove sta che devo costruire? Qua. Allora, perché prima ho detto che non dovevo? Sì, Dio! No! 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 Rompi! 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 Lasciami a stare! Ok. Cioè, io prima stavo andando qua a costruire... Oh no, ma che fai? Ma questo è deficiente di qua. Poi dopo mi riporti qui un'altra volta. Mi morto... Madonna mia! Fin questo bione con il binocolo! Che cos'è che arriva? Ma questo è il nostro? Ah, sì. Ah, lui abbiamo fatto un favore. Gli abbiamo costruito questa per lui, vedi? Eh, chiedigli 200 euro per il servizio. Ah, il panterino. Ah, il panterino. Hello! Ma perché c'è uno nella panteria normale, come capista? Come? Boh, c'è l'elmetto, vedi? Non so perché, ma mi sta mettendo solo... No, 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 no! Ciao, Verga. Tutto a poter invece come va? Vai, andiamo! Chaco! Non ci sono basti cecchino e più buffe. Ancora non hanno mancato un carro che sia uno. No, infatti. Ho acquistato un oggetto il primo luglio. Ciò che finora non mi è arrivato a un'ottima che ci pese essere un oggetto. sono acquistato da un benitore italiano, ora a te l'oggetto dovrebbe arrivare 1.10 ho messo la benitore 24 ore fa ma tuttora lui ma proprio e beh io ero a ben annunci beh comunque e poi innanzitutto con un po' sei pagato spero con paypal non con post pay carta adesso magari aspetta perchè comunque se è un negozio potrebbe essere vedi cosa vedi? no con la post pay no sei un pazzo non devi mai pagare con la post pay è così che inculano i suoi pay ok vedo contatti sotto il ponte che stanno passando sotto il ponte ok o sono nostri? qua abbiamo i nostri e lì ci sono i nemici ok sparo sulle scale allora c'è le foglionine bastarde però vabbè infatti devo sparare quindi chissà ne vedo altri laggiù si si passano sotto al ponte ne vedo altri sto abbastanza coperto sto vedendo per i carri più che altro sì sì perché con la post pay il problema delle post pay è semplicemente che sono dei soldi come è successo a una società di giornale capita spesso che Gentex crea dei fantomatici negozi vendendo dei prodotti che poi al fine non spedisce mai e hanno residenze in colonia e praticamente con le poste pay una volta che gli hai fatto la ricarica quei soldi non li puoi arrivere capito? non ti possono rimborsare non so le poste che ti rimborsano invece con Paypal e Paypal che Paypal prima di dare i soldi al venditore passano le 8 settimane se ti entro le 8 settimane blocchi il pagamento non gli arriva un cazzo a loro che ti ho spiegato la tata grazie tata ho spiegato il colpo la di nuovo mi preoccupo il fatto che non vedo carri questa cosa mi inquieta staranno respawnando ma infatti sì staranno tutto il tempo dall'altra parte particolarmente inquietante qualcosa qui sono i nostri quello che pensavo è che l'avremmo fregati bene se l'avessimo attraversato il ponte ma è impossibile adesso no adesso è impossibile non ce la fai si tirano con tutto quello che c'hanno occhio che uscirà da qua sei ancora vivo ci stanno altri tra l'altro sempre qua sì sì no no ma è così perché capito quello stesso prodotto magari non è che lo vendono solo a te lo vendono ad altre mille persone capito quindi 12 euro per mille sono soldi fondamentalmente capito perché dopo molta gente non sta neanche andare a fare denuncia di genere perché dice vabbè chi se ne frega 12 euro però capite così che fanno continuo a non vedere i carri però vabbè comunque non è detta cioè semplicemente è un negozio che magari il sabato è chiuso riapre lunedì sta spavando però il nostro carro si lo prende da qualcuno ma da chi cazzo gli sta tirando il carro visto 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 dove? tira là tira lì tira lì dall'altra parte? sì sì dall'altra parte non so se ci arriva più alto più alto più alto tira più alto vado più a destra leggermente più a destra copy leggermente più basso dimmi ora leggermente più a sinistra è un dreamler dai che gli facciamo il culo si muove si muove vado si muove si muove eccolo lì ti è stato lì un po' più in alto più in alto più in alto molto più in alto che c'è spugno non vedo un cazzo no non lo vedo per cui il posto sto guardando il tuo simbolo ti cazzo meglio ok però porca miseria non so se da qua riusciamo tra un posto a cui lo vedi forse qui dimmi se lo vedi adesso mi colpi manco la zona sinceramente aspetta 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 vedo qualcosa muoversi su la costa vedo qualcosa con le scintille ah no quello è il nostro carro ok dopo sparo il nostro carro madonna no puoi tornare pure a punto di prima non lo vedo c'è il nostro tiga che non so che cazzo sta facendo lì sulla spona del fiume ok mi sa che l'hanno distrutto il fatto è che non lo vedevo più evidentemente si è mosso sì bisogna che aspetti lunedì è l'unica è l'unica non lo vedo 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 ma qua non è la pirata aspetta nooo aiuto che succede ho lasciato il fiume a mano siamo andati giù esatto ciao a te sfondo intanto non so perché da qua è difficile salire non so è un po' ma mara mettiti dove ti rimane comodo mettiti dove ti rimane comodo tranquillo a fianco a sto qua qua mi sembra buono ok ok l'ifanteria nostra va giù nel tanti tanti contatti in quella zona sì visto verifico per carri che da qua io riesco a vedere molto sto sopra al bunker tanti nostri ci stanno dando tanti di quelle mazzate mio dio che era sto colpo è arrivato un colpo eh ho visto ho visto non sono anche da dove riesci a vedere niente sembrava dalla destra no sì da destra sto guardando vabbè che chioppo che sei qui sono le nostre ancora qui è nostre non penso che visuale hai tu la sfonda apposta del ponte io ho una buona visuale a parte un punto che ho due alberi davanti ho una buonissima visuale hello ok ok allora va bene io perché non riesco a vedere carri ma i colpi che sentivo prima comunque qualche parte partono ma c'è modo che neanche loro se ci sono magari neanche loro hanno un visuale sì probabilmente sono da adesso che già ci hanno tirato ma forse quel è stato un pulpo però no niente tanto dove ti ho marcato c'è il nostro fanta che vediamo che buone questo aspetta mi devo ricordare che è portibile poi potete lo dico eh oh bene 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 ok vuol dire sotto vuol dire below quindi ok non so che vuol di sotto io in realtà non li vedo forse intende sotto al ponte ma vabbè ma quello lo sappiamo sono tre ore che stiamo tirando sì infatti la squadra per lì dove ho marcato bene sì sì tira lì l'altra per sicurezza oddio quello si butta ah ok pensavo che c'era uno che ci volesse buttare dei nostri napote invece non ci ha ripensato mi sembrava una cosa di più oh che c'è passato hai sentito anche tu hai sentito anche tu il fischio ho sentito il fischio sì penso sia al nord del ponte questi sì 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 sarà al nord red red se vedete i carri diteci che noi qua non vediamo non abbiamo visuale io sento il nord ho fatto un giro da l'altra parte però va a fare il giro dall'altra parte bellissimo ok sto rivedendo se c'è al nord per vedere se c'è un carro ok uva rand artillery rand 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 shit eh sono 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 la liga è arrivata l'artieria spero che non ti buttano Ok Siamo in alto? Sì, è un attilio, bro Ok, io sono in alto e poi tanto conto il mancazzano di qua nel punto teoria qui non ci dovrebbero prendere e rieccolo era bellino da noi è finito da ieri è qui ora figurati ok ma l'ho tirato su montano la faccia dentro sta già al posto del tiratore si? si si no ma si sta andando in stato di quelle botte dentro da qua c'è una pezza è nostra siamo tedeschi sta bombardando il botte è nostro sta tranquillo è roba nostra oh fermo 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 madonna quanta gente avevo visto mio dio sono sfuggiti c'era un sacco che cazzo ha appena passato oh ok madonna non lo so io non vedo non riesco a vedere nulla oltre il oltre il fiume solo che sicuramente qualcosa c'è perché il nostro panther tira vabbè che forse tira anche lui oh la sotto la sotto guarda la sotto c'è il cecchino che si sta affacciando dov'è? eh no penso che si è accorto che l'abbiamo visto e si è piegato tutto ok cazzo è finito gli hi ci dobbiamo andare a ricaricare ah non so se la ripestation non ricarica ma non lo so torna si però ora lo vogliamo ci viene in doccia si vale come se piove te lo concedo 88 ticket dai se riusciamo a resistere se riusciamo a resistere ci hanno 88 ticket manca veramente poco si penso di si sicuramente resistiamo se perdiamo queste ponte al massimo riusciamo a quello dopo tanto non guadagnano più ticket che bene si si ricarica ricarica anche si ma da 22 hi ok a sto punto cambiamo un po' zona vediamo un po' oddiooo se poi non vediamo niente ce ne andiamo da parte a nord sicuro stanno provando a attraversare anche il ponte quello del legno a nord ci palla scipio tortuga sconnetto un po' che vedi soprattutto carri adesso poi pensiamo al resto infatti sto controllo verso la zona aperta qua dalla pianura ma no ma mi fa strano anche perché caco che lì c'è il panther che è tranquillo quindi non facciamo carri se il panther solo il panther da adesso che era morto poi entro a me dal fianco gli tirano no penso sia distrutto però controllano un po' qualcosa ok guarda ben pelo più avanti d'accordo top gli tiro un colpo per sicurezza penso di sì un baso sì un baso sì sì penso sia andata guarda sto caro che si muove si smoke davanti a noi oh sì ho visto il mezzo sì ho visto il mezzo ho visto il mezzo che è passato in mezzo alla smoke sopra il ponte mi sembra che fosse il carro ok ok in quella zona e c'è anche fanteria là intorno mezzo in quella sul marker sì sì c'era il dremler ha passato da lì ok c'è quello là sopra ma non è vivo sì è vivo ho visto passare adesso mi sta facendo la rasciata sta passando un sacco di roba sul ponte e vai un periodo più avanti non vedo un cazzo così adri ci sei adri? tutto a posto? sì sì sto controllando dietro di noi perché sento scoppi sento non capisco chi è che tira penso sia un 88 che hanno piazzato che tira un po' a caccio mando un po' avanti il mezzo ok ok vediamoci vediamoci così ci vedo bene vediamoci così ci vedo bene che avevo visto in una tazza di ciorci la fanteria che passa non c'è nessuno su bridge west se questi fanno il giro eh eh no comunque il cerci la fermo immobile non credo sia ancora io è pre strano perché l'ho visto arrivare sul ponte poi non so eh lì c'è la fanteria che si muove sì adesso una cannonata e lì la tiro ah è il tremel il tremel il tremel è lunghissimo lo vedo non lo vedo più non lo vedo più muoversi eh non so se fermate bastardo ci muoviamo oh 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 me l'ho cagato sotto occhio non so se prendo il fermo o lo sto col bende quello è il problema no mi pare che hanno detto che sia andato giù qualcosa vedi un po' se vedi il tremel adesso no sta toccare sparando eh eh dai l'ho colpito sai si colpito è andato mi sa che ha esprosto perchè non vedo ancora sparare oh l'ho preso alla fine bellissimo dg perfetto buon adri ti saluto che adesso chiudo grazie mille della partita della compagnia eh grazie mille patatona ciao ragazzi ciao ma ciao adri credo c'era un po' troppo bene kill finale oggi si è visto ciao max allora ragazzuoli siamo in chiusura quindi abbiamo fatto la nostra live oggi addirittura alle 4 a 10 vi ho fatto una live lunghissima però ragazzi da un po' troppo scritto quindi va bene così allora come prima cosa ragazzi prima che mi scordo vi butto il link del gruppo telegram se ancora non vi siete uniti mi raccomando unitevi intanto qui intanto ah guarda il buon red bravo red che ti saluto bravissimo vi butto ragazzi qui il link del gruppo telegram se ancora vi siete uniti unitevi ok la prossima live ragazzi è esattamente domani mattina alle 10 e 3 quarti su Sea of Tees salvi imprevisti salvi imprevisti ragazzi domani mattina Sea of Tees e spero che questa live vi sia piaciuta se vi è piaciuta ragazzi se vi trovate il canale iscrivetevi quindi followatemi qui su te iscrivetevi sulla sul cuoricino e attivate la campanella notifiche perciò sempre quando sono in live se volete una cosa sicura che vi venite avvertiti quando vado in live bisogna che o entrate sul mio gruppo telegram oppure mi seguite su instagram nell'informazione del canale trovate il coso le foto con il profilo instagram cliccate e vi porto direttamente il mio profilo instagram perché lì faccio sempre stories di quando vado in live cosa porto e a che ora ed è molto importante e detto questo se vi è piaciuta questa live ragazzi condividete come sempre così anche magari dare una mano anche al gioco esser conosciuto nel mondo mondiale perché soprattutto quello italiano perché merita veramente tanto come sempre ringrazio i ragazzi di post iscrivete un'italia quindi trovate sotto le informazioni del mio canale sempre anche il bannerino del loro servo di disco quindi se siete interessati al gioco o ce l'avete o avete anche squad e vi dicendo cercate qualcuno con cui giocare ragazzi clicca sul banner e unitevi al loro servo di disco così almeno come dire avete qualcuno con cui giocare che mi può dare una mano anche insegnare se siete noi nel canale sono bravissimi l'italiana top detto questo ragazzi ringrazio tutti i nuovi follower ringrazio i nuovi sub e sub ringrazio i modatori come sempre per l'ottimo lavoro ringrazio voi in chat e grazie mille della compagnia noi ci vediamo domani mattina alle ore 10.45 ok tanto facciamo una cosa visto che c'è il patatone in live gli vado a fare il raidino va bene? ok andiamo a fare il raidino al master esegui il raid canale master doom e andiamo in live gli facciamo gatti in culo ok andiamo in live in chat gli scrivono gatti in culo va bene? quindi unitevi pure ragazzi e boh niente 2-1 ci siamo ci siamo tutti ragazzi per il raidino? bene ragazzi ci vediamo domani bella ragazzi bella lì buona giornata a tutti e buon sabato ciao ciutti che mi hai ciao 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 ciao